Stanotte sono stato svegliato da una chiamata di mia sorella dove mi diceva che l'aveva contattata la polizia perché ci stavano spaccando la vetrina della gioielleria. Prima ha spaccato una vetrina, poi ha fatto razzia di preziosi ed infine ha tentato di nascondersi dentro ad un cassonetto, ma è stato arrestato dalla polizia di Stato. È successo nella notte nella centrale via Crispi ad Arezzo. Tutte le notti alla fine non dormo più perché tra l'altro qui suona l'allarme, di là suona l'allarme, di quell'altro negozio suona l'allarme, fa una turno e si farà così, è una giostra. Il ladro si è canito contro questa vetrina anche ferendosi, ma i forti rumori hanno insospettito alcuni residenti che hanno allertato le forze dell'ordine. Al loro arrivo i poliziotti lo hanno trovato nascosto all'interno di un cassonetto dell'immondizia a poche centinaia di metri. Sentiva il tonfo, chiaramente le quattro di notte i rumori si sentono che non c'è nessuno in giro e si è affacciato alla finestra, ha visto questo tutto vestito di nero, il cappucciato che prendeva la roba della vetrina come bere un bicchier d'acqua. Il ladro quando è stato ritrovato aveva ancora con sé la refurtiva dal valore di qualche migliaio di euro che è stata subito recuperata. È stato arrestato per furto aggravato, sarà giudicato per direttissima. Ci si sente sempre peggio perché, ti dico la verità, ho cambiato zona perché la gelilleria prima ce l'avevo in via Giuseppe Verdi e era diventata invivibile perché tra i porcinaio di piazza Risorgimento c'era un via vai di qualsiasi benedetta cosa. C'erano le coltellate tutte le sere, tutte le sere. Io non potevo più tenere un negozio di questo target qui in quella zona, quindi ho detto spostiamoci in una zona un pochino più tranquilla. Ma evidentemente anche qui forse forse tanto tranquilla non è vero.